benvenuti nei podcast di intesa san paolo on air un luogo dove vengono condivise idee voci e soprattutto storie buon ascolto benvenuti al podcast appunti di transizione energetica di intesa san paolo con guido bortoni energy and climate senior advisor ora anche presidente di cesi spa dieci anni fa a capo del dipartimento energia del governo italiano presidente dell'autorità energia dal 2011 al 2018 e docente a contratto presso l'università di pavia benvenuti anche da parte mia nell'episodio di oggi parliamo di alcuni elementi fondamentali della transizione energetica che potremmo riassumere nelle cosiddette 4d decentralizzazione digitalizzazione decarbonizzazione diversificazione in realtà ce ne sarebbe anche un'altra ma la vediamo alla fine nell'episodio precedente abbiamo trattato della transizione energetica che è quel processo in itinere di trasformazione dei modi di produrre rendere disponibile conservare e consumare l'energia in maniera più sostenibile questi 4d sono gli strumenti attraverso cui possiamo realizzare la nostra transizione energetica ma iniziamo dalla decentralizzazione per coprire il fabbisogno energetico di elettricità consumato ogni anno nel nostro paese bisognerebbe coprire di pannelli 2300 chilometri quadrati di territorio circa i due terzi della valle d'aosta e anche di più a causa dello sbilanciamento di produzione fra estate e inverno nella stagione calda occorrerebbe produrre abbastanza da compensare il calo invernale quindi volendo far andare l'italia con il solo solare ipotesi del tutto teorica ovviamente essendoci altre fonti rinnovabili utilizzabili servirebbe una superficie coperta di pannelli di circa 5000 chilometri quadrati poco meno della liguria le energie rinnovabili come il sole il vento l'acqua sono sostenibili e fondamentali per la transizione energetica ma necessitano di molto territorio per essere prodotte sono infatti energie poco dense poca energia per metro quadro e per questo si parla di decentralizzazione decentralizzare significa spostare l'approvvigionamento e la produzione energetica da pochi punti concentrati sul territorio come è organizzato oggi il nostro settore energetico a molti punti con una configurazione a macchia di leopardo sul territorio per capirci i siti di produzione di energia nel 2000 che all'epoca erano principalmente da fonti fossili erano 250 su tutta italia molto concentrati e densi energeticamente oggi i siti di produzione di energia con le rinnovabili come il fotovoltaico che hanno preso piede sono oltre un milione la capacità produttiva di energia di una tipica centrale a gas è circa 1000 megawatt occupa una superficie di 1000 metri quadrati per la stessa capacità produttiva con il fotovoltaico installato a terra è necessario una superficie di circa 20 volte tanto questo ha un'implicazione inevitabile dobbiamo usare più territorio per produrre la stessa quantità di energia ma pensare anche a soluzioni alternative come ad esempio per il fotovoltaico non si usano più soli terreni ma anche i tetti i margini delle autostrade e delle ferrovie ad esempio ma è anche chiaro che le sole rinnovabili sono lo strumento più prezioso e al contempo bisogna affiancarle ad altre tecnologie decarbonizzati le vedremo questo affiancamento aiuta le rinnovabili a compiere il loro servizio alla transizione energetica la seconda d è la digitalizzazione nella transizione energetica la digitalizzazione è un abilitatore fondamentale si tratta di utilizzare la tecnologia nuova per gestire controllare e misurare cosa e come facciamo l'energia esempi di applicazioni la gestione del controllo del milione di punti di produzione di cui abbiamo appena parlato oppure facendo un esempio domestico che ci riguarda tutti la misurazione dell'energia gli smart meter di seconda generazione il consumatore può vedere il giorno dopo cosa ha consumato il giorno prima ora per ora una volta la lettura era annuale e non conteneva i dettagli quotidiani nemmeno quelli orari ovviamente il consumatore era nei fatti cieco vedeva solo gli effetti relativi alla sua sfera energetica una volta ogni anno ed eravamo afflitti da estenuanti conguagli dei consumi non era mai finita la rettifica oggi invece la tecnologia può supportare anche il cambio dei comportamenti del consumatore in tempi brevissimi come dicevo un consumatore sa qual è stato il suo comportamento 24 ore dopo la terza di è forse la più centrale per la transizione energetica di come decarbonizzazione l'immissione di sostanze chimiche tipicamente gassose in cui è presente anidride carbonica ad esempio la co2 nell'aria è una delle cause principali del cambiamento climatico decarbonizzare significa ridurre il contenuto in atmosfera delle sostanze in cui è carbonio che appunto alterano il clima cioè fanno sì che l'atmosfera non riesca a smaltire il calore irradiato sulla terra dal sole è come se la terra fosse rivestita da una coltre pesante generata dalla co2 che blocca il calore riscaldando in maniera anomala il pianeta e originando un'estremizzazione dei fenomeni meteo alluvioni bombe d'acqua siccità l'energia è responsabile per il 75 per cento del problema climatico delle nuove emissioni annue mentre si sta andando nella direzione delle prime due di la decentralizzazione e digitalizzazione spontaneamente la decarbonizzazione invece è quella che richiede un intervento più deciso a livello politico e regolamentare non avviene da sola dobbiamo spingerla infatti se gli operatori dell'energia agissero seguendo solo il loro interesse economico senza nessuna spinta regolamentare la decarbonizzazione sarebbe molto molto lenta infatti se dicontestualizziamo dalla crisi dei prezzi gas la fonte più interessante per gli investimenti e per gli investitori sarebbe quella fossile che è anche quella però che genera maggiori livelli di inquinamento da co2 ecco perché il tema è diventato così centrale per tutti i governi e la direzione intrapesa è quella di creare le cosiddette policy a reazione dove gli operatori reagiscono al disegno delle regole ossia disegnare le regole del mercato in modo da allineare l'interesse economico degli operatori con quello della comunità ad esempio quello di decarbonizzare il nostro ambiente che cosa fare per ridurre le emissioni di co2 nell'atmosfera una soluzione è quella di tassarle con il meccanismo della carbon tax vale a dire con una ecotassa che viene calcolata sulla quantità di emissioni clima alteranti che vengono emesse nell'atmosfera e che prevede quindi un'imposta su ogni tonnellata di anidride carbonica prodotta dalle aziende sì stiamo dicendo in altre parole che si tassano in maniera più gravosa le tecnologie che emettono più co2 così da incentivare e spingere l'adozione delle migliori tecnologie che non sono tassate grazie al loro basso livello di emissione è un gioco a penalità si penalizzano le tecnologie grandi emettitrici di co2 in modo la reazione quindi conseguente degli operatori è quella di orientarsi sulle tecnologie più pulite per questo le chiamo policy a reazione a cosa serve ad indirizzare le aziende verso comportamenti che limitino l'impatto della loro attività sull'ambiente e dall'altro ad avere un introito fiscale che potrebbe essere potenzialmente utilizzato dai governi per investire nella tutela ambientale anche nella crisi pur dedicando gli introiti ad intervento di sussidio di aiuto dei consumatori per gli alti prezzi non è comunque opportuno sospendere questo meccanismo che spinge sempre sulla decarbonizzazione progressiva l'ultima di è la diversificazione diversificare l'energia significa far ricorso a diverse energie primarie diverse metodologie di produzione e anche ovviamente diverse tecnologie a cosa serve permette la riduzione di rischi presente in ogni fonte energetica ogni fonte energetica non è scevra dal suo rischio permette la riduzione di metodologie di produzione e tecnologia la diversificazione è equivalente alla prudenza che si deve avere in ogni attività economica o prendendo spunto dalla famosa favola della cicale della formica diversificare significa essere previdenti come la formica che si prepara ad affrontare le possibili difficoltà anche ignote al momento ma che possono sempre arrivare esattamente il contrario della cicala la cui filosofia è il famoso carpe diem tornando ad esempi dal mondo dell'energia e guardando l'italia il peso del gas russo aveva raggiunto il 40 per cento sul totale delle importazioni di gas né in italia come anche in germania e nell'attuale contesto geopolitico il paese si trovava in una situazione di tensione sugli approvvigionamenti di incertezza e quindi di difficoltà tutto il 2022 racconta una storia di questo tipo negli ultimi decenni ci siamo di fatto dimenticati della diversificazione come strumento di assicurazione del nostro sistema energia contro rischi e difficoltà che arrivano da tutte le parti e di vario genere guardando il futuro e come per la decarbonizzazione il ruolo dei governi è quindi essenziale per dare spinta alla diversificazione che anch'essa da sola non avverrebbe ho anticipato che esiste anche un'altra di che non è uno strumento bensì un problema la cosiddetta disease con cui vogliamo indicare lo stato di malessere per famiglie e imprese in europa dovuto al caro prezzi dell'energia questo malessere è il frutto di un impatto sul sistema che incide fortemente sul processo di transizione energetica tanto che siamo obbligati a tenerne conto facciamo solo un esempio per capire come questa disease o malessere impatti sulla transizione energetica ma prima chiari ha un concetto non così scontato per tutti i consumatori pagano l'energia elettrica proveniente dal mercato ad un prezzo che è determinato dalle sole produzioni a gas quindi tutte le tecnologie vengono remunerate allo stesso prezzo fissato dalle produzioni a gas nell'era pre covid e pre caro prezzi quindi fino al 2019 le rinnovabili elettriche necessitavano di incentivi ulteriori quindi avevano importi ulteriori rispetto ai prezzi che realizzavano sul mercato elettrico perché le rinnovabili erano più costose rispetto alle produzioni a gas con la crisi del caro prezzo in particolare di quelli del gas la situazione si è invertita si è capovolta le rinnovabili sono più convenienti di tutte le altre produzioni elettriche tanto che si parla di trasferire il cosiddetto guadagno inatteso delle rinnovabili a beneficio del consumatore finale il trasferimento se si fa va disegnato con cura altrimenti si rischia di penalizzare gli investimenti green nelle rinnovabili e quindi di ritardare il percorso di transizione energetica l'episodio di oggi volge al termine speriamo di aver chiarito meglio quali sono gli elementi fondanti di questa transizione energetica e perché su alcuni di questi c'è e ci dovrà sempre essere maggiore attenzione da parte dei policy maker e regolatori europei e nazionali le fonti dei contributi sono indicate nella sinossi grazie per aver ascoltato i podcast di intesa san paolo on air al prossimo episodio